Siamo partiti da una voglia che il calcio non c'era, era sparito a Mattia e quindi abbiamo preso questa palla al balzo per ripartire anche da zero, dalla seconda categoria e quindi ci abbiamo messo abbastanza a grinda ma soprattutto organizzazione perché secondo me è la base di tutto. La squadra è abbastanza valida per la categoria, forse anche per qualche categoria superiore e quindi l'affrontiamo tra virgolette serenamente però ovviamente l'insidio c'è sempre in qualsiasi partito. Per me è sicuramente un graditissimo ritorno perché vestire questi colori oltre ad essere un onore per me è un orgoglio da quando sono bambino è sempre stato un sogno e l'ho vissuto già in piccola parte nel 2008 purtroppo in modo sfortunato però quando vengo chiamato in causa per dare un contributo alla mia città lo faccio molto volentieri e ovviamente ci metterò tutta la mia esperienza e competenza per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con la società. Grande esordio Domenica Spinoso 4 a 0, arriva Domenica al centro sportivo Scirea, ore 14.30 il Pietrapertosa, una squadra temibile. Per quella che è la categoria dobbiamo rispettare tutti, tutte le squadre perché ci faranno sicuramente diciamo la guerra agonistica perché contro il Matera tutte vorranno fare bella figura ma dobbiamo farci trovare pronti, non abbassare mai la guardia e non sottovalutare mai nessun avversario e vedere partita dopo partita di costruire questa vittoria di campionato.